Buongiorno, oggi presentiamo un'altra ricetta con la presenza della panna, in questo caso stiamo parlando del Golden Dream. Quattro ingredienti in questa ricetta, abbiamo liquore galliano, quantro, succo di arancia, crema di latte, due celle di galliano, due di quantro, due di succo d'arancia e uno di crema di latte. Come al solito usiamo lo shaker, anche in questo caso la presenza sia del succo che della crema di latte. Grazie a tutti. Passiamo alla preparazione, due celle di ricore galliano, due celle di quantro, e pure all'arancia di origine francese, il nostro succo d'arancia che va sempre girato come abbiamo già detto precedente, e la crema di latte. Oh, shall we? Grazie. Allora. Allora. No, 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 no. No, 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 no. Questa volta che siamo senza l'aiuto dello streamer. Grazie per la visione.